Il senso di questo progetto è sicuramente il lasciare un segno, una testimonianza. Alcune classi della scuola mediafagnani sono state ospitate in questo anno scolastico proprio qua, nel plesso della Pascoli, per motivi di Covid, di distanziamento. Di conseguenza abbiamo pensato che era il posto migliore per lasciare una testimonianza di questo tempo strano che hanno passato. Quindi hanno raccolto pagine di diario, lettere ai post per i posteri, lettere a loro stessi nel futuro, articoli di giornale, hanno creato un video, mettendo addirittura una parte del primissimo discorso di Conte che ci invitava a rimanere a casa, foto di bar, insomma hanno fatto un grande lavoro e si sono molto impegnati, devo dire, e con grandissimo entusiasmo. Ho avuto quasi l'impressione che insieme con questa time capture volessero un po' seppellire questo tempo strano, veramente. È come un lasciarsi alle spalle un momento brutto lasciando proprio un'impronta di quello che è stato. Lettere, foto, foto con le mascherine, foto distanziati, è tutto qua. Ma loro adesso ve lo spiegheranno.